musica 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 immobile immobile ciro ciro immobile immobile e ci provo subito la donna immobile sacco i pericolosi di testa ti chieramo se si chieda il video e non c'è una spazio 1 a 0 per la cena perchè di 2 ah ok sicuramente al fine video starà a correre guarda muco puoi sapere se fa tutta la partita qua e che ne sapete te insegna provabile provabile lo vede perfetto il mezzo il tiro ma che cazzo cccs per un mezzo immobile immobile ccc ma che cazzo ma c'è il suo potere eeeh oh si lo so errois da ccc che culo Si, vai così No, ma sei? Che momento quando ci studio sopra? Questo l'ho fatto qua Si si, l'm'ho fatto qua Ta 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 Va, vai, vai. Cominci a cuore, vai Ah, sei ancora che conosco eh Vai Mamma mia! Che Borussia! Che Borussia! Torino attacco il Borussia No, no. Che cosa? No, no. Non tazzardate Shinigakawa Shinji 5 o te va così via così via ok 2.4 non 2 ma chi ha dato un po' più del corso insomma più ok dai da un po no 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 ma che culo 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 prova il tiro da fuori vai in bella comunque come gioco soltare un anno come gioco soltare un passaggio guardalo il magnifico il magnifico hai troppo culo io c'ho culo ma sti cazzi se entrava c'hai troppo culo dai lancialo bene ma che cazzo te costa fa un passaggio fatto bene mannaggia la troia guarda Royce manca via un pallone fa poco lido il Borussia stanno marco Royce oh che cazzo abomeyang 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 oh si va otto si va otto otto oh i pezzi i pezzi i pezzi moltace guarda guarda mo sfonna sto cosa i pezzi kakawa mancano solo 9 minuti alla fine della partita no fermo ce la faccio hanno cominciato a giocare grazie a cazzo hanno cominciato a giocare eeeh che stai a parlare ma è lentissimo che stai a fare vai sali su sbrigate sali su a pezzo de merda portafilia il display marco aggiungere armi salzo balladu a poco poco pò parattii vai per esempio minuti ahahah ancora tu eh lo sai a piottare aiuto aiuto vai ecco è finito vabbè questa bellissima sconfitta da parte del fitnessman Daryl e vi ricordiamo di lasciare un like, commentare e passare sulla pagina facebook lui non può dire niente perchè sta a pezzi vecchio trafano eh come stai? tutta a posto si mi oscuri mi oscuri dai granassi è tutto da lui è tutto videoeditor bella musica musica musica